Ricordo Napoli, un posto dove avevo conosciuto ragazzi di Camorra dove c'era uno che mi aveva insegnato come si fa a correre dietro con la moto uno e ammazzarlo quando gli spari, quando è davanti e la macchina è da dietro permettetemi, almeno questo glielo posso spiegare non lo spieghi perché io francamente non so se mi servirà, gli ho detto io, però nella vita cena, me la ricordo ancora, Gennarino sulla sinistra, sulla destra vedo che, mi ricordo ancora che stavo mangiando un minestrone io mangiavo il minestrone, Gennarino mangiare il minestrone certo punto se continuava a fare così mi ha detto Gennarino, che c'hai? Perché mi guardi? Eh, perché adesso ho capito non hai capito? Voi tenete a capa eh? Fantastico tu sei tutti salvi io no Gennarino è morto con un proiettolo in mezzo alla fronte due anni dopo aveva ragione, era profetico io avevo la capa eh? allora dico ai ragazzi voi avete la capa siete qua siete salvi